un salerno paronissi che dà continuità al suo lavoro con i risultati il buon successo di apice ha dato ossigeno in attesa poi del verdetto del risponso del giudice sportivo sì siamo in attesa del verdetto di sapri questa vittoria con l'apice ci ha dato un'ulteriore spinta per il lavoro che stiamo facendo i sacrifici che la squadra e tutto lo staff stiamo portando avanti dall'inizio sembra una squadra rigenerata dal punto di vista mentale al di là dell'aspetto fisico tu ci lavori in maniera costante le condizioni del gruppo condizioni del gruppo i ragazzi stanno bene anche mentalmente poi è normale che i risultati positivi poi ti aiutano a dare quel qualcosa in più per poter diciamo così fare sempre bene continuare la striscia positiva non c'è tempo per riflettere di nuovo una sfida una gara importante una sfida salvezza col cerbinato sì un altro un altro match point che ci può dare la possibilità di fare un ulteriore salto e affronteremo questa gara come abbiamo fatto sempre con il piglio giusto con la consapevolezza di essere un gruppo un po forte affiatato e cercheremo di portare a casa il risultato